Anche in tempi come questi in cui si era assegnati un po' tutti al peggio, il cittadino comune pensa che la politica abbia sempre in mente l'interesse di una comunità e non degli interessi privati o dei singoli, insomma che faccia quello che la gente si aspetta che la cosiddetta casta debba fare, occuparsi di risolvere i problemi, quindi si rimane sempre interdetti quando si vede che ostinatamente la politica, quella con la P minuscola invece continua a fare i propri affari e ad infischiarsene delle esigenze di una comunità, sta succedendo in Consiglio regionale, da tempo seguiamo questa vicenda davvero grottesca, davvero paradossale di una parte del Consiglio regionale, in particolare i Tosiani che si oppongono alla riforma delle USL voluta dalla giunta Zaia, voluta fortemente, perseguita dal governatore che ha da tempo voluto ridurre il numero delle USL da 22 a 9, che vuole ridurre i costi, che vuole riorganizzare questa macchina che funziona molto bene ma che può risparmiare risorse e funzionare ancora meglio. Per motivi prettamente ideologici, per motivi prettamente partitici si cerca di fermare questa riforma, è un po' come stare all'asilo Mariuccia, ci sono migliaia di emendamenti da parte dell'opposizione e addirittura si fa come i bambini proprio, fanno come i bambini e dicono no siccome tu hai avuto quella caramella me ne devi dare due a me poi devi dare all'altro, è un gioco al massacro veramente molto infantile pur essendo un gioco al massacro perché si cerca proprio di fermare un cambiamento così subordinando gli interessi di una comunità a quelli di singoli, agli egoismi di pochi, a quelli che vogliono avere una USL in più, per esempio quella della Gardesana, inutile, completamente inutile, per fini elettorali così come vorrebbero averne un'altra da un'altra parte perché nel caso specifico dicono siccome avete tenuto, avete voluto tenere quella del Veneto orientale e quella di Bassano che sono aree molto specifiche che hanno problemi molto peculiari come abbiamo ripetuto molte volte allora dovete accontentare anche noi, se no salta tutto. Ecco il rischio è che proprio per questioni di mero interesse, proprio di interessi di piccolo cavotaggio, proprio interessi di bottega, una riforma studiata, articolata che darebbe sicuramente vantaggi ai cittadini perché riorganizzerebbe bene la sanità anche laddove non ci sono delle USL specifiche, ecco tutto questo viene vanificato da una guerra strumentale e pretestuosa, è veramente triste vedere come anche con il Tribunale della Pedemontana chi dovrebbe intervenire per aiutare i cittadini a vivere meglio, a non fare pellegrinaggi sul territorio, a non dover andare nel caso specifico di Bassano del Grappo una volta chiusa la nuova cittadella giudiziaria già pronta costata 12 milioni costringendo i bassanesi ad andare fino a Vicenza. È triste vedere che tutte queste scelte sono animate da livori, da rancori, dalla voglia così di in qualche modo prevalere sull'avversario ed è veramente sconfortante ancora una volta vedere che i sindaci, oltre che i parlamentari veneti, oltre che i coloro che stanno al governo e che dovrebbero fare gli interessi del Veneto, se ne stanno lì immobili. Soprattutto i primi cittadini del territorio dovrebbero difendere questa riforma con le unghie e con i denti, così come altri interventi che sono determinanti per migliorare il Veneto. Ma come al solito del Veneto si parla solo per questioni di lana caprina, mentre quelle importanti, quelle a cui i cittadini guardano con grande fiducia, vengono messe nel cassetto per le rivalità partitiche, per una stupida logica di rivalità nei confronti di quelli che vengono considerati non dei politici che possono aiutare il territorio, ma dei nemici da abbattere, da demolire, a prescindere da tutto.